Quanti tipi di viaggiatori ci sono? Sei abitudinario o pellegrino? La scelta della vacanza dipende anche dal carattere. Ecco come. C'è chi passa da un treno all'altro, chi si massacra i piedi a forza di sentieri, chi ha occhiaie da record causa nottate alcoliche in discoteca e chi di andare in vacanza non ci pensa nemmeno perché tanto nessun posto è bello come casa mia. Tutti però dopo le ferie sono tanto più felici quanto più hanno potuto scegliere cosa fare. Se ce l'hanno fatta sono soddisfatti, hanno messo in luce magari senza neppure accorgersene tratti nascosti del proprio carattere. Sono i tipi di viaggio, categoria di persone della quale almeno una volta ciascuno di noi ha fatto parte. Ed ecco chi sono e come sono fatti. C'è la categoria del nomade. Gli esseri umani sono mossi da due spinte contraddistinte. La territorialità che ci fa amare la casa, la via e il quartiere nostro. E il nomadismo che ci spinge a muoverci come facevano nella preistoria per cercare nuove risorse. Il tipo nomade in una certa fase della sua vita obbedisce alla seconda spinta e accumula chilometri e chilometri più che esperienza di luoghi. Ama la frenesia del movimento molto più della meta. Per lui la vacanza si valuta con una cifra, quella della distanza percorsa. Ne esistono di due tipi. Chi si sposta sempre perché si trova bene in ogni luogo e chi si sposta sempre perché si trova sempre male. È di solito giovane, ha un buon titolo di studio e tipicamente la sua prima vacanza dopo l'esame di maturità è stata l'Interrail. Grazie a questo biglietto speciale in un mese ha visitato tutte le capitali europee. Di esse presumibilmente non ricorda nulla ma è diventato espertissimo in carrozze ferroviarie. Poi c'è il secondo tipo di viaggiatore, l'avventuriero. Per questo tipo invece ogni vacanza è una nuova sfida. Cura l'efficienza fisica, ama le sensazioni forti e rifugge dalle masse. La vacanza è competizione con se stessi e le proprie abilità. Sportivo, sceglie montagne da scalare, trekking in altissima quota o discese di fiumi con zattere. Va in ferie anche da solo. Ha pianificato la vacanza sfida passando l'inverno in palestra, praticando arti marziali o corsi di sopravvivenza. Lo si trova a dormire spesso su una parete di roccia o attraversare in ospitali deserti. Per lui lo stabilimento balneare è da scartare, a meno che non abbia una parete a picco sul mare da cui potersi tuffare o onde altissime in cui poter far surf. La sua personalità, più fragile di quanto si creda, rischia sempre di innamorarsi e potrebbe finire preda di disinteresse generale e col morale a terra. È contento di tornare a lavorare, molto più stanco di quando era partito. Poi c'è il terzo tipo, l'edonista. Fugge dalle sfide dell'avventuriero pur accumulando la stessa stanchezza. Inutile cercarlo prima delle due del pomeriggio. La vacanza significa per lui capofolgimento dei concetti di notte e giorno. È un animale prettamente notturno. Si muove fino all'alba fra happy hour, beach party e discoteche affollatissime. Va in vacanza con molti amici ed è estroverso, socievole e disinibito. Ma ha anche il rischio alcol e non vuole saperne di entrare in una relazione amorosa stabile, perché ogni sera deve essere un'avventura diversa e già al mattino il partner o la partner della notte precedente risulta insopportabile. La vacanza è giudicata in base al numero di rapporti sessuali avuti. Rischia di tornare al lavoro in uno stato semicomatoso, con il profilo facebook pieno di nuovi amici, ma di solito con nessuna vera nuova amicizia. Ed eccoci arrivati al quarto tipo di viaggiatore, l'abitudinario. L'edonista, a suo modo, cerca nuove esperienze. L'abitudinario? Mai. Ha una cittadinanza ad onorem rilasciata dalla stazione balneare dove si reca da 40 anni. Stesso albergo, stessa camera, stesso bagno, stesso ombrellone. Si trova ogni estate con le medesime persone, di cui conosce a memoria gli alberi genealogici. È preciso, conservatore e rigido. Il trasferimento della gelateria preferita può costituire per lui un trauma psicologico profondo. Il quinto tipo di viaggiatore è il casalingo. Cugino dell'abitudinario si defila se fra gli amici si parla di vacanza, perché per lui la meta ideale è starsene a casa. Non per questioni economiche, spesso è facoltoso anche, ma per il piacere di godere della pace del suo ambiente domestico. Tendenzialmente ansioso, ha paura dei nuovi incontri e dei possibili imprevisti che un viaggio può comportare. Spesso accampascusa improbabili pur di non partire e, se proprio costretto, si muove solo in auto verso località arcinote. Compagno odiosissimo per le ferie, in ogni momento è luogo ad aridire e criticare, sentendosi a disagio. Il suo motto è tutto il mondo è paese, perché la sua casa corrisponde al mondo. viaggia spesso con la mente e spesso ha librerie stracolme di resoconti e guide di viaggi. Il sesto tipo di viaggiatore è il travel chic. C'è anche chi vive la vacanza come ostentazione. È quello che non coglie mai lo spirito del luogo, perché si rifugia in prestigiosi resort, sempre uguali. A Parigi come a Barcellona, distaccati e anonimi, da cui esce solo per lo shopping. Di solito è molto facoltoso, valuta la bellezza del luogo in base al costo della vita. Il settimo viaggiatore invece è il pellegrino. Opposto al travel chic, dorme preferibilmente in conventi, ama le bellezze naturali e, benché non sia in genere una persona sportiva, può cimentarsi in molti chilometri di cammino al giorno. È un tipo introverso, ama la solitudine, i luoghi poco affollati, il silenzio e per questo frequenta molto spesso località di montagna. È appassionatissimo di storia medievale, canto gregoriano, e almeno una volta nella sua vita ha percorso la via francigena. E, in versione estrema, può perfino chiedere l'elemosina lungo il percorso. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.